Bentornati, oggi mercoledì 17 aprile 2019, un bel World in Team, un team da tre dove faremo 4 time, 100 oppure 75 calories raw, 100 box jump over, 100 power snatches, 100 thruster, 100 chest to bar pull ups, 100 thruster, 100 power snatches, 100 box jumps over e 100 oppure 75 calories raw. Pesi scalature come sempre sulla grafica è tutto per oggi, ci vediamo domani e buona giornata.